Dal 21 al 24 febbraio 2013 il Centro Storico diventerà uno spazio d'incontro per il volontariato italiano che troverà nella città di Lucca la sua sede naturale. Quest'anno infatti il Festival del Villaggio Solidale, dopo le due precedenti edizioni al Polo Fieristico di Sorbano, torna nel luogo in cui è nato il Centro Nazionale per il Volontariato. Tra le novità di questa terza edizione, oltre al nuovo logo e al nuovo claim, tutti dentro la base dell'evento che sarà il complesso dell'ex Real Collegio. Il programma dettagliato della manifestazione verrà reso nota a gennaio, ma sono molti gli eventi in costruzione che coinvolgeranno le realtà locali e nazionali in un calendario culturale diffuso e partecipato. Si parlerà del volontariato a scuola e fra i giovani. Target qui è rivolta anche un'iniziativa che avrà come partner ZELIG, la community di Smemoranda e l'agenzia di comunicazione MNC. Si parlerà del futuro del servizio civile, delle prospettive della protezione civile, dei beni culturali, delle problematiche del carcere, dei cambiamenti in atto nel welfare italiano, in particolare del ruolo delle comunità locali, del volontariato nel contesto europeo, della comunicazione sociale, della cultura del dono e della donazione, oltre ad un calendario di presentazione di libri a tema. In programma inoltre un grande evento dedicato alla memoria della fondatrice del CNV, Maria Eletta Martini, a poco più di un anno dalla sua scomparsa.